Del nono, due eliminati e uno in prima base che ha la possibilità di pareggiare. Pedro Serrano ha la battuta. Come per tutta la primavera, anche oggi Serrano non ha fatto neanche una battuta valida. Martinez è pronto a scattare dalla prima base. Ecco il lancio! Serrano sbattacchia il suo mazzone, la palla vola alta verso il centro del campo. E colpisce un uccello! La palla va a destra e l'uccello al centro. Serrano passa la prima base e si dirige verso il centro del campo. Ehi, facchettiamo! Oh, Serrano ha ucciso essere vivente! Lascia stare quel piccione! Corri! Corri! È ancora vivo. Martinez ha toccato la terza e vola verso casa! Come l'uccello! Mi dispiace, ma sei eliminato, Gandhi! Troppo tardi! Non è punto! La partita è finita!